E una frase che mi ha proprio segnato è stata Vai, tanto siamo l'Inter, se ti richiamiamo, tornerai Tutto questo l'ho detto e mi ha lasciato... Scaricato proprio... Sì, scaricato, io non avevo una squadra Ciao a tutti, mi chiamo Andrea e questo è il primo episodio di Ad un passo dal sogno In questa serie vi mostreremo ogni puntata un nuovo personaggio Che ci parlerà della sua storia E i motivi per cui non è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo Il primo personaggio che abbiamo con noi è Lorenzo May Ciao a tutti Posta Io e Lorenzo ci conosciamo da un po' di anni E appena mi è venuta in mente l'idea di questo progetto È la prima persona su cui ho fatto affidamento E nulla, se ci siamo possiamo partire Ci siamo Allora io ho iniziato a giocare quando avevo 4 anni Ci avevo sotto quasi obbligo di mio papà Ah ok Un partito di calcio E... Il tifoso? E anche... Lui? Sì? Juve Juve? Tu Juve anche Tutti la famiglia E ho iniziato a giocare alla Cisatese Audax Adesso la Val Ceresio, ve lo sai Con un mister che era un amico di famiglia Che poi purtroppo è venuto a mancare Che si chiamava Sgarzi Sì, sì, sì Vabbè lui mi aveva iniziato a insegnare un po' le basi Poi lui aveva avuto degli screzzi con l'Arcisa Tese E l'ho andato all'Induno Quindi io a... Tu non hai fatto il passaggio dell'Arcisa Tese Val Ceresio? No Tu no? Ok No, io ho fatto il passaggio dall'Arcisa Tese all'Induno Perché lui è andato per gli ultimi 6 mesi in cui ha allenato Poi ha smesso di allenare Mi ricordo che avevo fatto un torneo con l'Induno In cui ero stato bravissimo E mi aveva chiamato un osservatore dell'Inter Per andare a fare le prove All'età di 7 anni Quindi molto piccolo Quindi subito Induno-Inter Sì, io ho fatto Arcisa Tese Induno-Inter Ho iniziato a 7 anni con tantissimi pensieri Ovvero se non era troppo presto per andare Se veniva a aspettare un pochettino Però alla fine è un'occasione che ti capita poche volte nella vita E allora anche mia mamma e mio papà ha detto Ti hanno spinto Cioè andiamo, facciamo tutto 7 anni ho fatto all'Inter altri 7 anni Quindi ho fatto dai 7 ai 14 all'Inter Bellissima esperienza, sono cresciuto tantissimo In particolare con un mister Che era Viva Bene, va bene Non so chi è Che lui era un dittatore Cioè era proprio cattivo Urlava con tutti Alla colte Eravano piccoli Sì, eravano piccoli Sì, sì E lui ad esempio mi ricordo che se ti si slacciavano le scarpe in campo Lui ti toglieva e non te le allacciava lui Cioè devi imparare a lacciarti Io mi ricordo che ho fatto un corso Con lui siamo andati ad Hannover Un torneo bellissimo In cui io non volevo neanche partire perché avevo paura del mister Cioè ha fatto finta di stare male per non partire Però alla fine mia mamma mi ha convinto di andare Esatto, con i mezzi com'è che ti organizzavi? Cioè tu sei rimasto a vivere qua? Allora io sono sempre rimasto a vivere qua Non sono mai andato là Mi facevo inizialmente quando ero troppo piccolo Mi portavano i miei genitori Mi portava mia mamma o i parenti, chiunque Poi quando sono andato alle medie C'avevo il pulmino che veniva a Varese a prendermi Quindi io uscivo da scuola prima Andavo a Varese Mi prendeva il pulmone e andavamo ad allenamento Poi riprendevo il pulmone e tornavo a casa Quindi uno sforzo anche comunque per la tua famiglia Sì, era uno sforzo per la mia famiglia Ma soprattutto uno sforzo per me Certo Perché Quanti allenamenti erano? Allora, fino alla prima media Quindi tutta la parte di elementari che ho fatto Tre allenamenti alla settimana Più due partite Sabato e domenica Quindi cinque giorni alla settimana Quando poi sono andato alle medie Erano quattro allenamenti Più sabato e domenica Quindi erano sei giorni alla settimana Un lavoro Era un lavoro Un lavoro E vabbè, io arrivo a 14 anni In cui ero capitano dell'Inter Io ho iniziato i 14 anni ad essere capitano dell'Inter E l'ho considerata fortissimo e tutto Primi sei mesi li gioco tutti Titolare, capitano Poi al scatta gennaio Io compio i 14 anni E mi dicono che io ero troppo piccolo Cioè io non mi ero sviluppato Il solito problema del fisico, l'altezza Sembra una stupidata e molto lontano Ma in realtà no Io ero molto forte tecnicamente Cioè loro mi dicevano Tu tecnicamente sei uno dei più forti che abbiamo Però io non mi ero ancora sviluppato Io ho una foto a casa Ho una foto a casa In cui sono di fianco a un giocatore del Milan Della mia età In cui gli arrivo al fianco E loro me l'hanno detto subito Mi hanno detto Guarda sei troppo piccolo Noi non abbiamo interesse in questo momento Perché non ci servi Proprio diretti sono stati E una frase che mi ha proprio segnato è stata Vai, tanto siamo l'Inter Se ti richiamiamo tornerai Proprio questo l'hanno detto E mi ha lasciato Scaricato proprio Sì scaricato Io non avevo una squadra Anzi poi mi ero anche rotto Una parte sotto della tibia Quando ero all'Inter Non mi hanno dato le cure Mi hanno proprio scaricato Allora io mi sono messo da solo Sono iniziato in una squadra regionale Perché ero anche rotto Con quelli di un anno in più Che ero? In subria Vecchia in subria Sì la vecchia in subria Adesso la subria tesi Io ho iniziato lì Male Perché comunque ero fermo da un po' Perché mi ero rotto Sembrava che avessi perso tutto Che rolla che facevi Lollo diciamo? Io lì facevo il trequartista Classico numero 10 Sì Trequartista esterno Poi Faccio tutto l'anno Inizio a giocare Inizio a giocare bene Riprendo la forma che mi mancava Fine Fine anno Uno degli ultimi allenamenti Mi spacco il crociato della gamba sinistra Mi spacco il crociato Dramma Perché ero piccolo Non si sapeva Va operato Non va operato Quindi avevi 15 anni Sì 15 anni 15 anni Io l'ho rotto Abbiamo deciso di farci operare Ci siamo affidati al medico della Milano Basket Sì A Monzoni A Bigoni Scusami Bigoni Con tutto il suo team che mi ha seguito Infatti adesso il ginocchio è perfetto Però sono stato fermo comunque tanto Io ho fatto da giugno di quell'anno A gennaio dell'anno dopo Fermo Gennaio dell'anno dopo Io ho riniziato alla Varesina Quindi sempre regionale Però nel mio stesso anno comunque Certo Ho rotto un crociato Non potevo Riprendo a gennaio Forma ora che l'ho ripresa Un altro mese è passato Arriviamo a febbraio Parto a giocare a febbraio Inizio a giocare bene Tutto nella norma Facciamo un amichevole Contro la Propatria Che era in Serie C Noi eravamo allievi primo anno Sì Nella Varesina Contro la Beretti Erano proprio due anni più grandi E un anno più grande Erano tutti più grandi Io lì ero stato bravissimo Allora mi chiamano Mi dicono Guarda ci interessi come giocatore E vieni l'anno prossimo da noi Allora l'anno dopo Io ho comunque opportunità Perché comunque la Propatria In Serie C E tutto quanto Decido di andare Certo Con tutte le insicurezze del caso Non sapevo se avessi giocato Non sapevo niente Partiamo Con gli allievi Della Propatria Una squadra fortissima Eravamo veramente forti C'è qualcuno che è arrivato? Che è arrivato Diciamo sì A giocare in Serie C Tipo Piran Leo Leonardo Piran Gioca in Serie C Molto bravo Come giocatore Mi piace tanto Lui è arrivato Altri no Noi abbiamo iniziato Una squadra fortissima C'eravamo io e l'altra punta Perché io in quell'anno giocavo punta Eravamo due punte centrali Che avevamo fatto In dieci partite Tipo venti gol In due Arrivano diverse chiamate Perché comunque Eravamo forti Cioè si vedeva Che eravamo forti Arriva a me La chiamata dal Torino Mi arriva la chiamata Dal Milan Che mi aveva detto Che gli interessavo E Sarebbe stato anche un po' bello Sarebbe stato bellissimo Infatti io mi stavo già spiegando Che poi ero contento Però Era l'anno del covid Quindi E' successo tutto Nella prima parte del campionato Perché poi a gennaio Bloccato tutto Bloccato tutto Bloccato tutto Arrivato il covid Non si poteva neanche più giocare Quindi loro hanno aspettato a chiamare Abbiamo fatto quell'anno fermi Che ha messo un po' in ginocchio tutti Cioè io Mi ricordo che l'ho vissuta proprio male Il periodo covid E anche per cose successe Extracampo Extracampo Io quegli anni L'ho vissuti veramente male E Però L'anno dopo Siamo ripartiti come primavera Primavera 3 E La squadra era la stessa Quindi le chiamate Diciamo che ti avevano fatto Sono state Diciamo archiviate Esatto Sono state archiviate Come per dire Vediamo cosa succede dopo Ok ok Però sai Quelle robe lì Sono come il classico treno Certo Difficile che ripartano Ok Era andata Sì sì Allora vabbè Iniziamo l'anno dopo In primavera Io Sempre Anche lì ero capitano In primavera Perché Non so perché Gli mister vedevano sempre in me Questo leadership Che Non so perché me lo davano Però Leader silenzioso No io ero più No io ero più leader Silenzioso Ma che parlava Al momento giusto Cioè io ero Cioè io l'ho fatto Con gli atteggiamenti Io ero un leader Con gli atteggiamenti E Facevo anche i discorsi Quando serviva Quindi avevano Visto in te Questa figura Questa figura Esatto Mi avevano messo capitano Tutto bene Finisce l'anno Senza chiamate Comunque la stagione Era andato molto bene Non avevo saltato Una partita Ok E tutto Finisce l'anno Dovevo andare In serie C Quindi prima squadra Passare dalla primavera Alla prima squadra Con un anno in meno Perché io ero Al primo anno di primavera Ok E poi volevamo Passarmi subito Poi non so Il motivo Perché non mi è mai Stato detto È stata archiviata Questa cosa Cioè è stata detto di no Mi è arrivata la chiamata E mi hanno detto L'anno prossimo Noi abbiamo l'intenzione Di mandarti in prestito In serie D Che comunque Io avevo 18 anni Certo Può essere un altro Percorso di crescita Sì 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 Io ero Anzi ero contento Di accettarla questa cosa Perché ho detto Vado in serie D Mi faccio le ossa Con gente grande Prima squadra e tutto E poi non era Terza categoria Cioè era comunque Una serie D Ed ero piccolo Allora io contento E convinto Decido di affrontare Questo percorso Però è stato un percorso Quello in prima squadra Veramente pessimo Perché io ho iniziato Che Ma dove in serie D? In serie D Alla Castellanzese Ok Alla Castellanzese Lì Vabbè a Castellanza Il percorso è stato bruttissimo Perché io avevo iniziato Come quinto Ok Io c'entravo un po' a 5 Quartista insolito Quinto a sinistra Quinto a sinistra Perché io sono sinistro E Sacrificio Sacrificio Devo correre Però ero disposto Ero anche messo bene fisicamente Riuscivo a far tutto Considerato uno Una tua storia Tua e di Edoardo Grosso Sì Che eravate stati menzionati In un post Di qualche pagina Instagram Della serie D O di qualcosa Comunque dei migliori giovani Sì esatto Mi ricordo Mi ricordo C'era quel post lì Cioè io l'ho considerato Veramente bravo Poi Vabbè Inizia questo percorso In D Considerato uno Dei migliori giovani Ultimo amichevole Precampionato Mi stiro Proprio Arriva una palla alta Io sei classico A lungo Per prenderla Mi stiro sotto Ok Il femorale Vabbè Mi stiro Classico due mesi fermo Perché era un bello stilamento Era tipo Uno Un centimetro e otto Era un bello stilamento E allora Decidiamo di Cioè decidiamo di Rimetterci a fare La fisioterapia E tutto quanto Per ritornare in carreggiata Torniamo in carreggiata Arriva il 18 dicembre Dopo che Mi ero rimesso anche in forma Dovevo partire il titolare Dopo che non avevo visto Ancora il campo In campionato Dovevo partire il titolare Però comunque C'erano ancora Le C'erano i rimasuli del covid Il 18 Arriviamo lì al campo Era un sabato Positivo Faccio il tampone Prima di iniziare Positivo Positivo E Questo per far capire Che Non conta solo Avere i piedi Essere veloci Una serie di fattori Che Però non sono scuse No no Beh certo Però ci deve essere Diciamo l'insieme Di tutto Deve combaciare tutto Esatto C'è anche la fortuna Che Alcuni ce l'hanno Alcuni non ce l'hanno Quindi covid Covid Io mi sono fatto il covid Il capodanno Natale E il mio compleanno Perché ho compiuto Il 2 gennaio Quindi Sono fatto tutto Col covid E comunque Sono stato fermo Perché non potevo allenare Non potevo uscire di casa E stavo anche male Riprendiamo Con il ritorno Ritorno Riprendiamo Riprendo la forma Però dovevo fare Dovevo fare delle visite Le visite Quelle Post covid Per vedere se il cuore Era tutto a posto Faccio questa visita Esce fuori Che io avevo Una percentuale Di glucosio Nelle urine Troppo elevata Si pensava Arrivati a marzo Ormai Marzo riprendo Però comunque Sapete anche voi Che in prima squadra Sei giovane E tutto Se ti perdi Un anno Cioè che inizia marzo Non vedi il campo Eravamo anche in una situazione Di In bilico In bilico Tra salvezza E buttato giù Non si fidava al mister Io infatti avevo fatto Poche presenze Quelle che avevo fatto Tra l'altro Tutte da subentrato Da titolare Non ne avevo Un'altra forse Nonostante il mister Continuava a dirmi No sei bravo Sei bravo Di poi di là Arriviamo all'anno dopo Decido Allora dato gli anni Che avevo passato Di merda Di scendere ancora Decido Ok vado in eccellenza Perché voglio giocare Iniziamo a giocare In eccellenza Dove? Alla subbiatese Quindi anche un buon Cioè un buon palcoscerico Però io lì già Nella mia testa Qualcosina Si stava Spegnendo Si stava Dopo Una, due, tre Quattro mazzate Infatti io mi ricordo Che io ero sempre Una di quelle persone Che quando c'era La pausa estiva Si teneva Il più in forma possibile Ah ok Quell'anno lì no Io avevo deciso Di lasciarmi Un po' staccato la testa Sì ho staccato la testa Non allenavo Infatti sono arrivato Alla preparazione Con quella squadra Messo male Malissimo Messo malissimo E io mi ricordo Che durante La preparazione Atletica dei mille Dopo 200 metri Lo sbocca Vabbè Ero messo male Però nonostante questo La preparazione Mi è servita E ero ritornato in forma Sono ritornato in forma Partito titolare Tutto da titolare C'era il mister In quella squadra Che mi voleva Ok il mister Mi voleva proprio A tutti i costi E anche un po' Mi sento anche in colpa Perché ho fatto fare Anche magari Una brutta figura Al mister Perché lui mi voleva Io mi sono presentato Scoppiato Vabbè Mi ritorno in forma E il mister Mi inizia a far giocare tanto Tutte le partite Titolare Sempre quinto Sempre quinto No Addirittura lì terzino Terzino difesa 4 Lì aveva messo Difesa 4 Terzino Che io non sono Però comunque lui ci vedeva Perché lui comunque I terzini Li faceva alzare parecchio Cioè veniva in giù Con il mediano In mezzo Di due difensori Quindi difesa 3 I terzini che salivano Quindi io avevo Comunque tanto spazio Vabbè Partiamo bene Tutto quanto Però non otteniamo I risultati Che la società spera Sì perché mi ricordo Progetto Progetto Solbiatese Era un bel progetto Sì era un bel progetto Avevamo dentro Una squadra molto forte Però non otteniamo I risultati sperati Quindi Esonera non mister Tu non so se sai Come funzioni Quelle società lì Che quando Un mister Vuole un giocatore A tutti i costi E poi la società Esonera non mister Anche il giocatore Ovviamente Infatti io dal momento Che sono andato via Il mister Io ho iniziato A non giocare Cioè proprio A non vedere più il campo Tant'è che poi Già La mia testa Si stava lasciando andare Io allora Mi ricordo ancora Che Halloween Avevamo l'allenamento Il giorno dopo E io sono andato a ballare Mi sono tirato malissimo Ti sei presentato Non mi sono presentato Ah non ti sei proprio presentato Mi sono arrivate le chiamate Io ho preso il direttore Gli ho detto Sì salve dire Guardi volevo avvisare Che io non vengo più Non mi hanno pagato L'ultima mensilità Vabbè fa niente Cioè me lo aspettavo Che non mi arrivavano i soldi Perché comunque Era diventato anche Un lavoro effettivo In quel momento Perché io prendevo Anche dei soldi Buoni Però Comunque eri Eri un ventenne Io ero un ventenne Un ventenne Che faceva Diciamo quello Che aveva sempre sognato Ovviamente non come Pensavi magari Come ti eri prefissato Di arrivare a fare Però comunque Sì Io ero Stavo vivendo Quello che volevo fare Ovvero vivere di calcio Però con la possibilità Che comunque Potevo salire Perché avessi fatto L'anno alla castellanzese Da Dio O comunque anche L'anno alla soldatese Da Dio È un attimo Lì che E adesso è ancora rotto Sempre lo stesso L'altro Infatti lì ho pensato Che avevo le ginocchia Un po' fragile Vabbè Dal momento Che mi sono rotto Il crociato Io ho proprio pensato Ho detto Mi stanno facendo capire In tutti i modi Che non è la mia strada Devo cambiarla Devo fare qualcos'altro E infatti ho deciso Di prendere Lasciare il calcio Di lasciarlo E questa è più o meno La mia storia Una curiosità Che avevo sul calcio Poi passiamo Al nuovo Diciamo capitolo Della tua vita Di ragazzi Che hanno giocato Con te All'Inter Oppure proprio Di quella parentesi Inter Che è la parentesi Che immagino Possa interessare Un pochino di più O magari Qualche episodio Con qualche ragazzo O proprio in generale Tu O con qualche allenatore Qualcosa Allora Gli anni all'Inter Sono stati bellissimi Cioè non posso dire Che sono stati Da merda Anzi Io ho fatto delle esperienze Che credo che Un ragazzo Di quell'età Non può fare Abbiamo fatto 11 giorni In Portogallo A un torneo Con 70 squadre Siamo arrivati secondi Perso la finale Siamo andati a giocare A Stoccolma Contro Real Madrid Barcellona Tipo Xavi Simons Ci ho giocato contro Ah ok Tipo Adesso sta facendo bene Tra l'altro Sta facendo bene Adesso Sta facendo bene Si Si vedeva già Che aveva qualcosa in più Allora Era già Lui è sempre stato Il classico Prediletto Quando eravamo Contro Barcellona Tutti sapevano già Chi fosse Ok Si mi ricordo Che lui era sponsorizzato Già Quando era piccolo Si si mi ricordo Sarà per i suoi cappelloni Non so perché Però Anche perché in campo Effettivamente A quell'età Lui non era così Tanto Cioè lui è molto più forte Adesso Adesso è un animale Si si adesso Quando avevamo Quell'età lì Non era quello Forse che spiccava di più Non era quello Allora un episodio Cioè io ti dico Quello che so Si Perché io so Che tu hai giocato Con Gnonto Si Io e Gnonto Eravamo Un botto amici Cioè Gnonto Comunque Io lo sento tuttora Proprio Io e lui eravamo amicissimi Per quanto che Abbiamo fatto insieme Parecchi anni Perché lui è stato all'Inter Fino all'anno dopo In cui io sono andato Via Esatto Io sono andato via L'anno dopo Se n'è andato anche lui Lui era Si vedeva Lui Lui si vedeva Perché era più forte Lui però Questa roba forse Della Lui non ce l'aveva Sai perché? Perché lui era basso Era molto Però era Lui aveva già i muscoli Nonostante Willy È Italiano Nato in Italia Lui è proprio italiano Willy Lui è sempre stato Uno dei miei migliori amici Io passavo dell'estate A fare una settimana A casa sua A dormire A vivere E lui una settimana A casa mia A vivere A dormire Infatti La sua famiglia Ma infatti Mia mamma E i suoi genitori Sono rimasti un sacco In contatto Poi ovviamente Io ogni tanto Ci scrivo con Willy Lo sento tuttora Però ovviamente Non come Non c'è più il rapporto Eh no Perché io poi sono andato via Dall'Inter Comunque A me il fatto dell'Inter Mi ha fatto parecchio male Io sono un ragazzino Di 14 anni Nel piano degli ormoni Nel piano dello sviluppo E tutto Che è stato scaricato Quindi magari Proprio cancellare Quel periodo là Un pochino Dalla tua vita Esatto Io volevo anche cancellarlo Quindi non volevo I rapporti con nessuno E tutto Ho cercato di eliminarli Poi però con Willy Era una cosa Tanto forte Quindi è rimasto un pochino Oltre a Willy Qualcuno che Allora io Devo fare un attimo Mente locale Willy So che è arrivato Poi c'è Tu con Esposito Non hai giocato Io con Esposito Non ho giocato Ho giocato forse una partita Perché ho giocato Con quelli più grandi Sì perché lui è 2002 Lui è 2002 Però so chi è Lo vedevo in giro Di Marco Col fratello Se no c'erano Mi ricordo La punta Chi era la punta Scalvini 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 giocavi contro Scalvini Giocavo contro Mi ricordo Miretti Io con Miretti Lui era capitano Della Ju Io era capitano Dell'Inter Cioè ci conoscevamo Poi vabbè Tutti quelli stranieri Che io alcuni Magari ci ho giocato contro E non me li ricordo Io ho una curiosità Sì Capitano dell'Inter Una delle più Giovani promesse Del calcio Sì Nazionale Allora Nazionale Perché io non so come funziona Allora Non so niente La nazionale Arriva dopo Ah ok Prima non ci sono Perché prima Io ho stato chiamato Diverse volte Una rappresentativa nazionale Che però Non c'entrava Con quella Con l'Inter Era una rappresentativa Nazionale Di giocatori Che c'erano In tutta la nazione Però non sono neanche mai andato Perché non era la nazionale Nazionale arrivava dopo Arrivava intorno ai 16 Quindi under 16 Cioè nazionale Eh non mi ricordo Under 16 Under 15 Non mi ricordo perché è una cosa Che io non ho vissuto Ok ok Io non l'ho vissuta E quindi non la so Però so che arriva da dopo Io una cosa che posso dire In generale Sì Su questo discorso È che La scelta forse sbagliata Che ho fatto nella mia vita È stata quella di andare A giocare Troppo presto In una squadra In una realtà del genere Perché io sono andato a giocare Quando avevo 7 anni Che non capivo ancora niente Della mia vita Cioè non sapevo neanche Quanto ero fortunato ad andarci E comunque per me È sempre stato una sorta di lavoro Perché comunque Un ragazzo di 7 anni Un bambino Di 7 anni Che deve andarsi a allenare 3 volte a settimana Più due alla partita Lo prende come un impegno Della madonna Certo E per me è stato così Da 7 anni A quando ho smesso Quindi diciamo che Dal mio punto di vista Io è come se non avessi vissuto Il mio passato Cioè io non avevo amici Non potevo averli Perché non riuscivo a uscire I pomeriggi Come facevano tutti i ragazzi normali Il sabato sera Non potevo uscire Perché avevo la partita Il venerdì pure Perché avevo il doppio impegno Sabato e domenica Quindi io non Non l'ho vissuta Ne avevo pochi Non vivevo la vita Questa cosa secondo me Col senno di poi Pensandoci adesso Che ormai Quell'ambito lì È tutto andato Perché Non posso dirti Adesso mi rimetto a giocare calcio Divento un calciatore È impossibile Certo Però dico Col senno di poi È stata veramente Una cosa Che mi ha Segnato Mi ha segnato Mi ha fatto arrivare Alla scelta Di poi lasciare tutto Così in malo modo E quindi Secondo me C'è da differenziare Due tipi di persone Ci sono le persone Forti di testa Che nascono così Che nascono Che sono già Che ce l'hanno magari dentro Che sono già pronte Per arrivare Che allora possono andare Anche a sette anni A giocare in quelle squadre lì E non molleranno mai di testa Invece sulle persone Magari come me Che di testa Magari non sono così forti Però ci sono tante così Però comunque Se fanno le scelte giuste Hanno comunque La possibilità di arrivarci Perché io avevo Tutte le carte in regola Per arrivarci Ho fatto semplicemente Le scelte sbagliate Sì Io di Lorenzo Posso confermare Perché Le qualità erano in dubbio Io mi ricordo A un torneo della scuola E abbiamo giocato Non so se abbiamo giocato contro Comunque ti guardavo E si vedeva proprio Che era Totalmente di un altro pianeta Totalmente di un altro pianeta Quindi Anche lì Su quel torneo lì C'è da aprire un siparietto Perché io non potevo farlo Lì all'interno E nonostante eravamo piccoli Ogni anno Dovevamo firmare un contratto In cui avevamo Degli obblighi Ok Da Dover rispettare Da dover rispettare Ad esempio Non potevo sciare Non potevo andare a cavallo Non potevo andare in moto Non potevo giocare a calcio In altri posti Se non al campo Dove c'è la linter Non potevo fare niente Tipo il classico torneo estivo Non potevi fare Non potevi fare Questa cosa Anche questa cosa È molto impegnativa Perché ad esempio Magari volevo andare a sciare Non potevo Ad esempio adesso Ho una passione Per lo snowboard assurda Che prima Non potevo avere Perché non l'avevo mai provato Ma il motivo era perché In caso succede qualcosa Quelli che ci rimettiamo Siamo noi Esatto Era questo In quelle società lì Una cosa è certa In tutto il settore giovanile Nella maggior parte Fino alla primavera Tu sei un numero Tu non sei Lorenzo Tu non sei Dibe Per loro vali dei soldi E quindi se ti fai male Loro quei soldi Non gli rientreranno mai Certo E quindi ti trattano così Parentesi calcio Che quindi si chiude Si si chiude la parentesi calcio E si apre Una nuova parentesi Nella vita di Lorenzo Esatto Perché Vabbè A parte che mi sono successe cose Nella mia vita Che extra Calcio Extra tutto Però comunque La parentesi calcio Era finita così male Che dentro la mia testa Era nato proprio Una voglia di rivincita In un qualsiasi settore Io lì mi sono proprio fermato E ho detto Ok Calciatore Non lo divento Perché bisogna anche essere realistici Cioè non bisogna vivere coi sogni I sogni è giusto averli Ma bisogna anche stare col piedi per terra Cioè io mi sono reso conto Che non sarei diventato un calciatore Magari appunto Perché sono debole di testa E quindi mi sono arreso Però Mi sono reso conto Che non lo sarei diventato E quindi ho detto No però voglio un senso di rivincita Ed erano O andare a studiare Che però Non ho molta O Sincero O andare a lavorare Fare un lavoro Che mi piacesse Per tutta la vita Oppure Trovare un'altra cosa Che poteva essere Iniziare come un hobby E vedere come andava Sì Ed impegnarmi al massimo Come facevo con il calcio Io ho scelto la terza E ho iniziato a scrivere canzoni Numero dieci Quindi artista Esatto Fantasista Ho iniziato a scrivere canzoni Ma proprio tranquille Lo facevo con i miei amici Mi richiamavano Cioè li chiamavo in camera mia Che avevo il computer E registravo con le cuffie Con cui giocavo alla Play Però mi ricordo che Mi piaceva tanto Ed erano uscite cose anche Abbastanza carine Ok? Molto fatte male Brutte Se pensi ad adesso Però carine Allora mi sono affidato A una persona che conoscevo Un mio caro amico Che era dentro questo settore Gli avevo detto Guarda io voglio provare Questa cosa Voglio provare a Scrivere canzoni A vedere come va Come hobby Perché comunque La storia del calcio Mi ha insegnato anche questa cosa Mi ha insegnato a tenere Proprio staccate le cose Cioè La musica adesso È un hobby La voglio fare per divertimento La faccio Come va Come va Ok Cioè proprio senza paura Senza Senza nessuna pressione Proprio tranquillo E vedere come va Allora mi ricordo Che lui mi aveva indirizzato Verso un produttore Che adesso è diventato Uno dei miei migliori amici Proprio Cioè È come se fosse lui Il mio manager Cioè Lui è la persona Su cui io Mi baso Su tutte le cose E abbiamo iniziato A scrivere canzoni Ho fatto uscire due canzoni A caso Senza pubblicità Senza niente E hanno fatto In poco tempo Una 22.000 visualizzazioni L'altra 11.000 Che sono numeri bassi Vabbè però Per partire da zero Così Una cosa fatta Cioè io non ero nessuno Io ero una persona normale Qualcosina avevo smosso Diciamo i titoli delle canzoni Facciamo Allora Uno era Resta qua E l'altro Era Confusione di Guernica Che le canzoni si possono trovare? Ovunque Ovunque iTunes Spotify YouTube Quindi se volete ascoltarlo Sapete dove farlo E Progetti? Progetti Allora In ambito musicale Ci sono parecchi progetti Perché adesso sono pronto Con Un EP Di 5 canzoni In cui ho Una canzone Con due fit Che hanno Due milioni Su un pezzo Entrambi Un'altra canzone Con Un altro artista Che ha Tre pezzi Sopra i due milioni E poi due scritte da me Fatte tutte da me E una scritta Con Mose Non so se sai chi è Sì Sì C'è un Spinge 16 milioni Quindi sta andando bene E Diciamo che mi sto trovando bene Sto mettendo Tutta la disciplina E la voglia E la passione Che avevo Nella musica Però non facendo Lo stesso errore Che ho fatto col calcio Ovvero Non vedendola come lavoro Non vedendola come una cosa Che devo fare a tutti i costi Ma vedendola come Un hobby Che se poi un domani Dovesse diventare il mio lavoro Tutto di guadagnato Tutto di guadagnato Io mi sto divertendo Investendo anche del denaro Perché comunque Per andare in studio A registrare Tutto Spendere i soldi Però comunque perché mi piace Lo faccio come valvola di sfogo Come qualcosina Da vedere Perfetto Vorrei chiederti Un rimpianto che tu hai Dici Cavolo Io vorrei cambiare Questa cosa Se avessi fatto In modo diverso Questa cosa Magari a quest'ora E poi da lanciare Appunto un messaggio A chi ci sta guardando Nel senso Magari Non arrendetevi A questa difficoltà Oppure magari Come hai detto prima Se non siete pronti di testa Non fatevi influenzare Da Inter Milan Aspettate E cogliete le vostre Di tu Tutto quello che vuoi Allora Per quanto riguarda I rimpianti Diciamo che Non ho troppi rimpianti Perché alla fine Io il mio percorso L'ho fatto L'unico rimpianto Che posso avere È quello di esserci Andato troppo presto Cioè io penso Ma la mia vita Se io avessi aspettato Cosa sarebbe successo? Certo Magari potevo Non essere nessuno O magari mi avrebbero chiamato A 12 anni Che magari Di calciatore Esatto Questo qua è l'unico rimpianto Che posso avere Nell'ambito calcistico E invece un messaggio Che vuoi lanciare A chi ci sta guardando? Allora In qualsiasi ambito Che non sia per forza calcio Ovviamente Noi parliamo di questo ambito Perché è quello che stiamo facendo Però che poi può Allora In tutto il mondo Le difficoltà ci sono Ci saranno sempre Tutti le hanno avute E chi ce l'ha fatta Fino in fondo È perché è riuscito Ad affrontarle Queste difficoltà E A trarne Beneficio Un'altra cosa invece da dire È essere consapevoli Delle proprie capacità Alla fine Noi vediamo magari In televisione Un calciatore Vediamo in televisione Un cantante Vediamo in televisione Chiunque E dici Vorrei essere come lui Ma come faccio? Noi dobbiamo pensare Che quella persona Prima di essere quello che è Era una persona normale Era una persona Nata come noi Che ha fatto la gioventù Come noi Che Tutto quanto come noi Quindi Come dice Lazio In una canzone Diciamo Sì Tutti abbiamo 24 ore Solo che Lo sfruttate meglio Cioè Tutti abbiamo 24 ore Soltanto che È come le sfruttiamo Certo Certo Chi riesce ad arrivare È perché Riesce effettivamente A sfruttarla bene E A trarne Bene Però Però In tutto C'è sempre Bisogno Di tanta fortuna E io ad esempio Una cosa che ho visto È che Nel calcio Rispetto alla musica In questo momento Io nel calcio Avevo molta meno fortuna Mentre nella musica Adesso mi sto sentendo Parecchio fortuna Perché stanno capitando cose Che mi stanno dicendo Ho anche fortuna Quindi tutto quello Che diciamo Il calcio ti ha tolto In questo momento La musica Ti sta un pochino Ridando Mi sta un po' ridando Ed è forse Questo il motivo Di dire Dai vai avanti Ok Se diventi Nessuno Sei nessuno Se diventi qualcuno Sei qualcuno Allora per concludere Volevo fare questo giochino Con Lorenzo Che poi Faremo con tutti gli ospiti Che ci verranno a trovare E alla fine Di tutti questi Di tutti questi giochini Con tutti i vari ospiti Completeremo il calciatore ideale Quindi ti chiedo Per ogni settore Di dirmi un calciatore E poi diciamo Scopriremo appunto Quale sarà il calciatore perfetto Quindi ti chiedo Tu da mancino Se devi prendere il piede sinistro Di qualcuno Lo prendi Scontato Di Messi Messi per me era L'idolo Eh sì Poi immagino Anche come caratteristiche Più o meno No ovviamente Magari Trequartista Mancino Quindi Messi per me È tutto Piede destro Piede destro Assurda Colpo di testa Allora colpo di testa Intendi come solo colpo di testa Anche fisicità Colpo di testa Colpo di testa Solo colpo di testa Colpo di testa Io mi sa che lo prendo Di Ramos Sergio Ramos Ok quindi per adesso Abbiamo il sinistro di Messi Il destro del fenomeno E il colpo di testa di Ramos Per adesso non male Non male Dribbling Dribbling Lo prendo Di Ronaldini Ok Quindi bene Bene anche qua Ok Non sta venendo fuori male Fisicità Vabbè fisicità Secondo me Ronaldo Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo Perché Questo dibattito Che c'è sempre stato Messi e Ronaldo Secondo me È proprio Che Messi È un talento È nato così Che si è allenato Certo tantissimo Ma è nato così Mentre Ronaldo È stato tutto frutto Di allenamento È proprio una macchina Ronaldo E adesso Ho paura di metterti In difficoltà Mentalità Rimetto Ronaldo Rimetti Ronaldo Sì Mentalità Ronaldo Perché secondo me Lui è l'atleta Cioè Ronaldo È proprio l'atleta Quindi siamo a due per Ronaldo Da un fan di Messi Sì sì no Ma io sono fan di Messi Ma Ronaldo è Ronaldo E intelligenza Intelligenza Voglio mettere Un centrocampista Che è proprio intelligente Io mi sa che ti metto L'intelligenza di Busquets Eh Busquets Ti metto l'intelligenza Di Busquets Perché Busquets Secondo me Fisicamente Anche forse Cioè I piedi Ce li ha buonissimi Però Quello che fa tanto Di Busquets Secondo me Riesci ad arrivare Prima con la testa E poi col corpo Sì Dai Direi perfetto Ci possiamo salutare Ci possiamo salutare Grazie 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 Grazie